Da Sant'Anna del Furlo, per circa un chilometro, fino alla diga del 1920, è possibile passeggiare godendo della natura e delle opere che oltre 50 artisti hanno realizzato per la terza edizione della Land Art al Furlo, organizzata dalla Casa degli Artisti. Quest'anno anche una mostra di ceramiche nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, lungo la vecchia Via Flaminia. L'artista Marisa Facchinetti ci racconta della sua partecipazione all'evento. Allora, io sono Marisa Facchinetti e vengo da Roma. È la seconda volta che partecipo a questa manifestazione, quest'anno con un'opera su un albero e con una collettiva, con altre due artiste che fanno ceramica. È stata l'occasione per mostrare delle cose che io faccio al di là del mio mondo pittorico. Faccio astrazione, però mi piace manipolare la creta, creare cose invece figurate, fantastiche, sirene, meduse, insomma cose che esistono nella mia mente. Chiaramente il personaggio della medusa non è una mia invenzione perché viene dalla metodologia classica, però variando a questo tema che mi affascina perché mi piacciono i serpenti in linea generale, mi piacciono molto. Quindi ho fatto meduse però in vari, non so, la medusa grassa, la medusa brutta, la medusa un po' più carina, il cucciolo e penso di continuare a fare queste cose. Questo per quanto mi riguarda. Le altre due artiste sono completamente diverse perché c'è Speranza Neri che fa dell'ironia con riferimenti alla contemporaneità sulle sue opere e Yvonne Ekman ha un mondo poetico, un po' fantastico, molto delicato in queste opere. Per quanto riguarda invece l'opera della land art vera e propria, io ho messo, sempre in questo mondo fantastico che ho, che ogni tanto lascio uscire in queste occasioni, ho fatto l'albero delle lune, cioè delle lune dorate che escono, che fuggono da una gabbia e si intrecciano con i rami di un albero. Ci sono gli uccelli in gabbia, li stanno in gabbia e le lune però scappano. Grazie a tutti.